Al vostro Perugipardo, al mio compagno di viaggio Stefano Nava, la Premier è di scena oggi con questa sfida davvero molto interessante Le partite di questo campionato difficilmente devono le attese, mi aspetto spettacolo ai gol Questa sfida mette di fronte Stock City e Tottenham Ecco qui la formazione dello Stock City Affrontano l'incontro col 4-5-1 di tipo nettamente offensivo per mettere pressione agli avversari Ecco gli undici di partenza del Tottenham Obscule Hanno deciso a loro volta di giocare col 4-5-1 ma con un'importazione che potrebbe essere più offensiva di quello che il modulo prevederebbe Stefano quali sono le tue considerazioni sulla squadra di casa? Mancano due giornate alla fine del campionato e vorranno sfruttarle per ottenere altrettante vittorie e mostrare ai propri tifosi l'attaccamento alla maglia Ci siamo, possiamo cominciare Si fa spazio, Crouch Walker Buona triangolazione Dani Rose Dembele Dyer La difesa del Tottenham è in ottima forma ed è fin qui la migliore del campionato Hanno dimostrato una solidità incredibile in difesa concedendo pochissimo Non sarà facile per gli avversari fare gol oggi Bojan Supera l'avversario Occhio cerca l'area di rigore Dyer Il retropassaggio verso il portiere Eriksen Palla che finisce fuori Vertonghen Crouch C'è grande pressione su di lui Gran tiro Palo Occasione importante questa Riconquista il pallone Eriksen La mette in mezzo Bojan Crouch Controlla il possesso del pallone Punta l'area Voleva sorprendere la difesa ma qui l'ha finito in offside Kane Dyer Kyle Walker C'è un'ottima rete di passaggio Può metterla in mezzo Recupera il pallone sulla fascia Recuperano il pallone Double A Tutta la sua rabbia per l'occasione mancata Anch'io sarei molto arrabbiato Abbastanza comprensibile Volsheid Volsheid Arnautovic Riescono a recuperare il possesso Attenzione Si riparte col calcio d'angolo Ecco il replay Rivediamo l'opportunità che ha avuto in precedenza Parte il tiro E' un tiro che lascia decisamente a desiderare Beh questa è stata una grande occasione sul calcio d'angolo Volsheid Arnautovic Pallone spettacolare Che apertura Palla recuperata Azione interrotta Alderweireld Artiglia bene il pallone Crouch Salta il difensore Lo ha lasciato andare via senza la minima posizione Crouch Ottimo intervento nel portiere Si ripartirà con una rimessa dal fondo Walker C'è il recupero del pallone Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo Si ripartirà con un fallo laterale Volsheid In Boulin Wilhelm Riconquista palla con il tackle Dyer Buono il cross Sicuro l'intervento nel portiere che blocca il pallone Ha un'autostrada a disposizione Pericolo Ecco il tiro Tiro respinto ma la palla è ancora in gioco Spazzano via il pallone In Boulin Wilhelm È stato fermato in offside È scattato con un attimo di anticipo Finendo oltre l'ultimo difensore Non era comunque una chiara azione da rete L'extra time sarà di due minuti La mela Occhio al cross Si salva di pugno Crouch È stato il gol E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi Zero a zero Comincia ora il secondo tempo Kane Dyer Ha intercettato palla con un ottimo tempismo Consentendo alla difesa di respirare E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi Walker Crouch Supera l'avversario Prova ad andare in scivolata C'è la parata sicura del portiere Che blocca il pallone Busley Fuori gioco davvero millimetrico Bravo l'assistente in questo caso Non era comunque un'occasione da rete Dani Rose Dembele Eriksen Buona lettura difensiva Che interrompe l'azione In un momento interessante Possono ripartire dopo il recupero del pallone Occhio alle sovrapposizioni C'è spazio per il cross Dani Rose Dembele Buono il Devae Bojan Crouch Riescono a recuperare il possesso Eriksen Attenzione Senza problemi Intervento comodo del portiere Alder Weidel Dani Rose Non è facile trovare spazi Ci provano con la circolazione di palla Prova a sorprenderlo Palla ancora lì Vince il contrasto A recupera il pallone Ha spazio per tirare Palla in out Calcio d'angolo Conclusione senza angolo Maragna Metri Alla in area Palla allontanata Kyle Walker Dani Rose Walker Controllano molto bene il possesso del pallone C'è pressione su di lui Mason Dani Rose Cross Pericolo Non riesce a bloccare Attenzione Kane Occhio al tiro Sembrava l'occasione giusta Per trovare il vantaggio Showcross C'è il triangolo Imbula Hanno provato a sfondare per via centrali Ma sono stati fermati Dembele Dani Rose Bojan Ci sono ancora otto minuti da giocare Eriksen Mason Bojan Bojan Shakiri Shaqiri Balagna Metri Verso l'area L'arbitro ha visto qualcosa Attenzione Rischia il giocatore degli Spurs E' arrivato E' arrivato il cartellino giallo per lui Eriksen Eriksen Vertonghen Alderweire Alderweire A A A A Grazie a tutti.